e certo sarà sempre in questo nuovissimo video del canale oggi parleremo giocheremo volevo dire al gioco dei paesi indicati nella nostra mappa comunque prima che iniziate vi dico iscrivetevi al canale e lasciate un bel like iniziamo questi qua sono in tutti i paesi potrete andare pure a vedere gli scorsi video che ho fatto in questo gioco e questo qua no ok lui isoleante quando insomma si chiama croazia albania lui vostre aspettate pesi bassi no belgio no repubblica c'è il luca la ok qua questo qua non so come si chiama belgio lui questo qua turchia polonia poi qua cos'è a luussemburgo luussemburgo comunque no no vabbè fanno solo due cuori ok spagna lui austria san marino no vabbè vabbè ho sbagliato ok ricominciamo no ho sbagliato francia poi qua facciamo così giorgia paesi bassi no vuoi fare noi che ho imparato un po' mi sono uno dei paesi dell'età dell'europa grazie tipo all'ucraina ho imparato un pochettino che non li sapevo proprio adesso man mano sto prendendo la mano ok la russia no voglio parlare un attimo della russia la russia vuole tipo avere pure il territorio ucraino ma la russia quasi tutta la ma tutta potete vedere ha pure questa isola qua che se non mi sbaglio la si trova tipo lettonia se non mi sbaglio in quella parte là e capire no se tu vuoi tutto lo spazio ma prendi tutta la ma tutta come si dice tutta la mappa prendi tutta questa mappa qua pure l'italia prendito perché così grande infatti è la è il paese più grande del mondo dicono poi qua cos'era l'italia non veggia lussamburgo cibro spagna un po cos'era ok belgio la città del vaticano no cos'è qua non c'è negro no no vabbè francia paria estonia riprova norvegia cibro almeno voglio indovinare 15 paesi almeno montenegro francia il sienburgo 15 paesi almeno meno quello la germania no lettonia senza perdere un cuore però questo qua città del vaticano regno unito no si è fermato aspetta a questo ok che bisogna pure tipo imparare il nord ok al 13 sto ok la svezia monaco la quindicesimo è proprio la russia allora se la russia sconfiggi l'ucraina allora questa parte qua dell'ucraina sarà russia qua non pensiamo russia ok noi ne abbiamo dovuto 15 paesi almeno quello facciamo pure 20 se qua cos'era questo siamo arrivati pure a 20 allora andiamo pure a 25 no non mi sono accorto scusate questa parte qua rossa del paese che devo selezionare per tipo questo isoletto qua se guardate sopra in alto a sinistra potete vedere un'altra parte no che ho fatto un'altra parte rossa se vedete ecco qua ah la danimarca devono sapersi che è la danimarca la polonia poi paesi bassi germania paesi poi estonia albania no croazia oh ma l'italia quando esce non è mai uscita se mi ricordo bene vabbè questo qua è finito quel video questo qua è uno che dovete dominare tutti i paesi del tutti dove sono selezionati i paesi e ditemi qua sotto nei commenti se quanti errori avete fatto e noi ci vediamo ad un prossimo e un prossimo video ciao ciao ciao